chiedo subito al dottor Gianluigi Pirazzoli eh grazie di essere qui con noi oggi eh abbiamo l'onore di avere il presidente della fondazione Sant'Anne e Santa Caterina di Bologna e dell' associazione nazionale strutture per la terza età eh dell'Emilia Romagna è davvero un onore e voglio chiedere a lei presidente ehm ecco dopo questo periodo delicato in cui abbiamo davvero bisogno di rigenerazione eh non solo all'interno delle case per anziani dei processi di cura e ma anche delle energie degli operatori e di rigenerare le connessioni anche con le famiglie i volontari con tutto il territorio e in questi giorni cominciamo a risentire forti tutte le emozioni e il sapore delle delle riaperture che che ci saranno ecco stentemente non desidera che le cose tornino come prima eh alla normalità perché significherebbe che in questo anno e passa non ha non avremmo imparato niente o molto poco eh ma abbiamo la responsabilità di dare una nuova energia e di rinnovare l'identità della cura delle nostre case ecco lei nella presentazione del libro di Letizia scrive procedere al cambiamento non è così semplice come dirlo occorre un progetto occorre un percorso un sistema attuabile nel tempo ed ha intuito presidente ehm che in sentimento c'era il seme del cambiamento proprio attraverso un percorso strutturato e concreto che vada a prendere in considerazione tutta l'organizzazione e e lei accennava all'avventura di sentemente Bologna e allora voglio chiedere qual è adesso il nostro impegno e che cosa occorre fare per rigenerare le nostre residenze? Eh le domande che mi fa sono tante e non sono facili da spiegare eh l'avventura di sentimento Bologna nasce da dei sognatori perché il nostro mondo sociosanitario non ci piaceva e non ci piace ancora nonostante attraverso l'impegno di tutti siamo riusciti ad apportare qualche modifica però la strada è ancora molto lunga sicuramente portare il germe del rinnovamento non è facile io me ne sono reso conto proprio ieri l'altro quando un esercito di giornalisti eh televisivi eh mi hanno rincorso perché aprivamo le visite ai parenti come se fosse una roba stravolgente una roba strepitosa quindi mi sono reso conto che l'immaginario collettivo non ha ancora ben presente che CRA vuol dire casa residenza degli anziani che RSA vuol dire residenza sanitaria assistita residenza è qualche cosa che citta il piacere di esserci residenza è un posto dove io ci voglio andare a vivere perché mi piace perché riconosco la mia vita ciò che ho vissuto purtroppo nelle nostre residenze e credo che chi mi ascolta lo sappia bene spesso le persone non ci vengono volontariamente ci vengono portate e spesso succede che entrando in queste strutture perdono la loro identità questo credo che sia il grande eh merito di sentimento cioè quello di riconoscere l'identità di ciascuno dei nostri residenti la dignità dell'essere umano che è unico e sostituibile però per fare questo occorre che gli operatori coordinatori le RA e i presidenti siano consapevoli che tutto ciò non accade da solo ma accade perché le azioni che facciamo non vengono fatte tanto per fare ma vengono fatte col cuore con l'emozione perché voi mi insegnate questo è un altro vanto di sentemente che non è importante il le cose che si fanno ma come si fanno ed ecco quindi un po' il percorso che voi avete tracciato delle parole potenzianti perché già solo cambiando le parole e questo è una cosa che io vi confermo perché la vedo e la sento tutti i giorni nella mia struttura come in altre di carissimi amici che partecipano a questo viaggio hanno già cambiato le cose eh guardare negli occhi chi si ha di fronte vuol dire fargli capire sono qui per te ho capito che hai bisogno le le biografie altro grande eh dono di sentemente sono la cosa che mi fanno capire chi ho di fronte perché come faccio a prendermi cura di qualcuno che non so chi è chi è stato cosa ha fatto e il compito eh detto così sembra facile ma vuol dire mettere in campo energie non solo fisiche ma energie emozionali che eh sono sono importanti ma che ti in certo in certo senso diciamo ti svuotano anche e che devi ricaricarle solo nella misura in cui l'entusiasmo ti porta a fare questo eh noi dobbiamo cambiare la percezione dell'immaginario collettivo con queste cose che sono eh visibili toccabili dobbiamo far capire alle persone che le nostre strutture non sono dei posti dove si va a non voglio dire il viale del tramonto perché è una roba troppo facile quasi diciamo in un eh cimitero degli elefanti ecco eh questo eh questa forza questa voglia che non si ferma davanti a niente e che credetemi eh eh i germogli a cui accennavate prima stanno veramente nascendo come funghi e sta solo a noi perché poi la responsabilità è di tutti non esiste qualche cosa che viene fatto se la responsabilità non è di tutti è troppo facile dire ah allora se non è responsabile nessuno vuol dire che non interessa niente no il cambiamento è la responsabilità di tutti perché ognuno deve e può portare il suo contributo però ripeto è una rivoluzione culturale noi ci lavoriamo ormai con Letizia da tre anni aveva fatto un progetto di tre anni ma io dissi subito a Letizia Letizia tu sei un grande coach e hai un cuore che non sta dentro al petto ma affrontare le cause terrene è molto difficile poi chiaramente ci si è messo di mezzo il covid che ha rallentato ma forse è qualche cosa che ci aiuterà a rinascere e a rigenerare come ha detto lei Anna rigenerare vuol dire dare dignità alle persone io non mi non smetterò mai di dirlo ai miei lo dico tutti i giorni eh trattate gli anziani come vorreste essere trattati voi quando sarà il momento e se avrete la fortuna di arrivarci quindi con tanto tanto amore e con tanto perché la bellezza della cura non sta solo nel alzarlo dal letto dargli da mangiare dargli le medicine ma è in quei momenti che io devo far capire che Mario Giovanni Francesca e Maria sono uno diverso dall'altro e io so chi sono eh non voglio farvi perdere troppo tempo ma una cosa ve la voglio dire e ho condiviso questa cosa con Letizia fin dall'inizio il nostro compito non è quello di mettere più giorni nella vita dei nostri anziani non ce n'è bisogno ci pensa già la scienza noi dobbiamo mettere tanta vita in questi giorni e quindi far sì che gli anziani che vengono da noi si sentano vivi e quindi abbiano voglia di continuare un percorso che li ha visti già protagonisti di tanta parte della loro vita grazie e buon corso a tutti grazie dottor Pirazzoli grazie a lei ed è proprio così la bellezza della cura è nei momenti in cui noi riusciamo a far sentire unica quella persona e abbiamo bisogno di diventare sempre più capaci di eh tessere di intrezzare per comporre ad arte e anche ordinatamente una organizzazione che cura per strutturare un piano una programmazione equilibrata tra le varie parti che che sono in gioco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti